eccomi buonasera buonasera sono in diretta e attendo che instagram avvisi come sempre i followers quindi voi e siamo per iniziare quindi con questa nostra bella diretta ancora una volta qui sul canale di archimedia e quante antonello sei il primo antonello sempre il primo comunque fra i primissimi ciao valduz lorenzo buonasera benvenuti benvenuti alla diretta poi insomma mi piace anche guardare i vostri lavori vedo che antonello fa dei bellissimi lavori poi insomma mimo anche valduz vedo che fate delle cose delle cose belle ecco omar zampelli buonasera a tutti da ieri intanto che pian piano pian piano state entrando io intanto faccio i miei saluti doverosi quindi innanzitutto ciao a tutti e grazie per la partecipazione io sono carlo monopoli vi do il benvenuto a questa diretta di pittura con i materiali di tipo professionali offerti da le franche bourgeois quindi ringrazio poi tutto lo staff di archimedia belle arti per l'invito in questo retta insieme cercherò di ispirarvi realizzando un ritratto a stesure piatte con un atteggiamento un po più espressivo insomma con i colori ad emulsione vinilica flash quindi adesso senza perdere troppo tempo ruoto sul tavolo iniziamo subito e vi ricordo sin da adesso che come sempre l'elenco troverete l'elenco completo dei materiali che utilizzerò durante la diretta nel testo di accompagnamento al video che poi verrà salvato nella sezione appunto video quindi benvenuti intanto a tutti quelli che nel frattempo sono entrati nella diretta quindi datemi il tempo di ruotare sul tavolo rumori di pedane perché si sentono rotazione 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 vediamo se riesco a ruotare subito sul tavolo una buona inquadratura eccola qua e abbiamo i nostri materiali posizionati sul tavolo spero che la visibilità sia buona e anche la qualità dell'audio allora allora nella demo di questa sera un po come stavo vi stavo dicendo strizziamo un po l'occhio ad una pittura che si muove in virgolette fra un po sfiora un po l'informale ma in realtà è un po più sulla pop art giusto due parole su queste due correnti insomma la pop art è una forma d'arte popolare che si ispira agli elementi grafici e compositivi della pubblicità e non a caso non limitandosi all'uso dei mezzi tradizionali della pittura ma anche a strumenti nuovi come il collage la fotografia e il cinema e in questo ci rientriamo e siamo nella metà del del ventesimo secolo l'informale invece è una forma ad arte contemporanea che si sviluppa in europa sempre più o meno negli anni 50 e 60 in america in giappone e anche in europa con creando comprende movimenti e correnti diverse quindi poi la caratteristica fondamentalmente di questa corrente proprio l'abbandono di ogni schema e struttura significativo che una sorta di negazione della pittura se la vogliamo mettere così ma non è proprio questo il caso diciamo che ci muoveremo nel senso più di mantenere dei movimenti che in qualche modo si allontanino dalla tradizione e considerando che comunque in questa corrente ci mettiamo anche l'action painting l'espressionismo l'astrattismo fate queste premesse il tema di questa sera importerà realizzare con voi un ritratto dedicata ad una vera celebrità ed è lei ad ossero vi faccio vedere il disegno che ho già preparato impostato ed è il ritratto e vedrete sicuramente poco perché fondamentalmente adesso provo a inclinare un po in modo tale che possiate riconoscere anche con il segno tracciato con la grafite su questo fondo rossiccio fondamentalmente è sofia loren che come certamente saprete è un'attrice italiana considerata una delle più grandi attrici della storia del cinema ed è impossibile non conoscere un po la nostra sofia possiamo dirlo dal tempio che persino l'american femmini istitutale la inseguità il ventunesimo posto tra le maggiori interprete femminili di tutti i tempi ed è quindi quello che vado a realizzare stasera insomma con questa premessa veramente una vera celebrità è stata io cercherò un po di celebrarli in qualche modo realizzando questo ritratto con l'ausilio ecco che sforzo un attimo i materiali che ho in mano con l'ausilio di una gamma di colori che penso forse qualcuno di voi già conosca che altrettanto celebre sono i colori della gamma extra fine flash di le franc e bourgeois ora diffusi a partire proprio nello stesso periodo siamo nella nel 1955 potremmo dire coincidenze non credo e allora tanto questo il disegno sono stati tra i primi materiali moderni capaci di offrire comunque nuove risorse a cui attingere per gli artisti sono prodotti in francia definiti colori assoluti perché sono colori polivalenti multi supporto e consentono davvero davvero molte applicazioni tecnicamente parlando è il colore in emulsione vinilica flash è costituito da pigmenti selezionatissimi più un poli vinil acetato cioè un legante a dispersione vinilica a base appunto di vestite di poli vinil acetato in base acquosa naturalmente quindi è una tecnologia a base acqua e polimerizza con un essiccazione che avviene per evaporazione dell'acqua e coalescenza per dirla proprio in termini tecnici tecnici però diciamo quello che sono i colori sono altamente pigmentati diluibili in acqua inalterabili nel tempo hanno e offrono una splendida finitura opaca a parte il disegno voglio mostrarvi un esempio di applicazione su un foglio guardate questo foglio questo è un foglio di cartoncino di carta telata di carta trattata effetto tela che di cui vi parlo tra poco e guardate che magnifica stessura sembra praticamente una stessura quasi un velluto e infatti è completamente opaca infatti e poi tra l'altro sono altamente pigmentati con una strumento veramente questa bellissima finitura che si asciuga e dopo dopo un di tempo chiaramente perché sono comunque tempi dell'evaporazione dell'acqua e ci si può lavorare subito dopo senza qualche modo compromettere il sottostrato il substrato le caratteristiche proprio ottiche quindi vedete proprio il fatto che siano proprio o completamente opachi li fanno ci fanno un po ricordare le antiche tempere chiaramente legato al fatto che comunque sono utilizzano delle resine che quindi particolarissime selezionate che assicurano un eccellente grado di conservazione poi sono perfetti per dipingere su qualunque tipo di superficie dalla tela legno al cartone per opere murali sia per esterni che per interni quindi anche i tromplorelli ma anche in ambito di scenografia dei fumetti nelle bozze per ritoccare i dipinti opachi anche ritocco della fresco fantastici anche per la preparazione del supporto come ho fatto in questa sera sia per i colori ad olio anche e anche per gli acrilici non che chiaramente per loro stessi per la loro stessa tecnologia una volta asciutti l'acqua e oppure le essenze quindi che sono essenza di petrolio treventini vari solventi non avranno nessun affetto su questo substrato quindi permettendo la sovrapposizione di diversi colori nel frattempo benvenuti a tutti quelli che sono entrati ciao ciao a tutti allora che cosa devo dirvi di questi colori beh velocemente intanto vi dico che questi colori sono offerti in una cartella di 76 tonalità vellutate veramente come avete visto soffuse comprendendo anche dei colori che mettiamo dei colori iridescenti e colori fluorescenti ecco che ho preparato una cartella di uno schema di alcuni dei colori metallici quindi iridescenti guardate che meraviglia di resa quindi chiaramente l'effetto di perlescenza con questi colori che vanno da questo verde colore questo verde particolare a questo color bronzo questo rosa oro rosato antico a questo madre perla quindi colori veramente magnifici e non di meno ci sono anche una serie di colori fluo e i colori fluo come più di una volta vi ho già mostrato ma anche in questo caso posso far vedere chiaramente riflettono moltissimo alla luce e le luci fluorescenti e per farvelo vedere faccio quello che faccio normalmente è quello di spegnere un po le luci almeno nei limiti della decenza ecco che non è completamente spento però vi faccio vedere come guardate con l'azione di una torcia quindi con una luce fluorescenti o fondamentalmente guardate come valorizzo il colore fantastico quindi immaginate questa resa anche per delle opere molto molto particolari riaccendiamo le luci diamo luce alle polveri anzi che fuoco alle polveri diamo luce alle polveri e quindi ecco per farvi vedere una carrellata colori fluorescenti una magnifica colori che magnifica cartella di colori disposti come dire offerti in vari formati abbiamo il offerti nel set da con i tubetti da 20 ml ecco che lo apro così vi faccio vedere sono dei tubettini da 20 ml e adesso questo formato è disponibile solo nei set poi abbiamo il classico formato del baratto tra 125 ml guardate questo è il colore blu sand quindi un blu cenere bellissima una gamma di colori straordinari poi c'è il tubetto nel formato di 80 grammi poi abbiamo anche formati più grandi abbiamo barattoli da 400 ml come questo questo è il colore orange fluo quindi vedete un bel barattolone fino ad arrivare anche a formati più importanti tipo il fusto da 5 kg quindi questo è un po per farvi una carrellata una rassegna di questi colori quindi come da prassi quando iniziamo a dipingere quello che ci occorre sicuramente un bel contenitore di acqua pulita meglio averne due così abbiamo sempre un contenitore dove avere quando iniziamo a dipingere sempre importante avere un paio di contenitori uno dove appunto laviamo sempre i pennelli è un altro dove potremmo a tingere l'acqua pulita quando ci servirà per le mescolanze per ridurre un po la viscosità del colore per il supporto beh per il supporto sentitevi un po liberi di scegliere il supporto che più soddisfa le vostre esigenze tele vi dicevo tavole telate carte comunque con una grammatura robusta però per la demo di questa sera ho scelto un formato comodissimo che è ottimo sia per fare degli studi ma anche per fare dei dipinti più dettagliati ed è la carta effetto tela ecco che l'avvicino guardate effetto tela di le franche bourgeois è un supporto proprio ideato per dipingere con gli acridici ecco che ve lo apro così vi posso far vedere anche un po la texture di questa carta se riuscite a percepirla contando sui potenti mezzi e fondamentalmente quindi hanno anche questo bianco naturale una bella una bella carta che permette veramente di dipingere naturalmente ha una texture simile alla tela non è una tela ha una grammatura di 300 grammi ed è completamente prima di acidi nella perla diretta ho scelto un formato a3 vedete esiste l'album nel formato a3 e poi nel formato a4 per chi lo desiderasse o addirittura nel blocco 41 per 51 all'interno ci sono sempre 15 fogli quindi comunque potrete avere a disposizione un blocco di una carta preparata proprio per esaltare la brillantezza dei colori comunque molto resistente anche all'invecchiamento bene abbiamo fatto una bella introduzione sui materiali e adesso iniziamo quindi in qualche modo su quella che è la fase pittorica allora prima cosa come vedete ho scelto di creare un fondo colorato il motivo è semplice questo colore che ho scelto questo rossiccio in realtà è la mescolanza di due colori ho scelto di mescolare questo rosso rubino con questo terra di siena bruciata perché il rosso rubino da solo ha la caratteristica di essere un semi coprente mentre il terra di siena bruciata è un colore vedete come vedete dal simbolino del quadratino pieno è un colore completamente coprente volevo dargli una maggiore robustezza ma ovviamente sarete liberi di scegliere il colore che più vi piace comunque tenete sempre nel contro il fatto che questo fondo fondamentalmente creato per interagire con il dipinto in qualche modo diventa parte integrante del dipinto quindi nella mia intenzione che quella di applicare il colore un po per blocchi e anche per stesure piuttosto ampie e quindi ecco che è fatta la prima pennellata poi fondamentalmente preparare un supporto è sempre un'operazione piuttosto semplice quello che consiglio normalmente quello di unirsi per esempio di una spatola prima di tutto facciamo una piccola prova ecco sposto un attimo sofia loren mi permetterà faccio un lavoro giusto per vedere come prepariamo il supporto allora prendo il colore mescolate sempre bene sia che si tratti di un tubetto sia che si tratti di un barato facciamo con questo bel colore di blu facciamo un fondo con questo blu cenere apriamo la consistenza cremosa di questo magnifico colore guardate se si vede bene un po in profondità l'ho usato un bel po questo colore un colore che amo particolarmente prendete una spatola ecco possiamo versare un pochino perché comunque una certa una quantità importante che ho messo però va bene la prima cosa che facciamo che invito a fare quella di punto stendere il colore prima con una spatola sia che se lo stiate facendo su questo supporto di cartoncino trattato effetto tela ma soprattutto quando lo fate anche e particolarmente sulle tele su altri tipi di supporti perché comunque con questa operazione facciamo entrare il colore in profondità bene molto bene quindi schiacciate con una spatola potete utilizzare diversi tipi di spatole io quelle che sto utilizzando questa sera sono delle spatole di delle franche bourgeois un assortimento nelle scelte fra un assortimento di spatole di far di spatole perfette con diverse forme di tagli di tesa quindi mantengono comunque una bella forma spatole in acciaio quindi di ottima qualità e proprio per la pittura con proprio pensate per la pittura ecco una volta fatto questo lavoro quindi abbiamo fatto entrare qui c'è tantissimo colore rispetto alle proporzioni del lavoro ma non è un problema allora muniamoci anche di qualche tovaglioline a pezzuola puliamo gli strumenti è sempre importante e poi con un pennello tutto sommato morbido ecco prendiamo un pennello sempre della serie fine dire fa anche questo pennello numero 24 quindi praticamente fondamentalmente 24 mm pennelli con fibra sintetica quindi molto morbidi che sono particolarmente elastici quindi permettono anche questo tipo di pennellata vedete semplice vedete anche che bel colore ancora è chiaro che nel nella prima stesura il colore a prima stesura appare brillante ma è chiaro che questo colore si dovrà asciugare spero di ricordarmi adesso che se lo mettiamo da parte vedete facciamo andiamo ad accarezzare un po il fondo in modo tale da ottenere una superficie bella omogenea avete visto anche la carica di pigmento è importantissima e quindi fatto questo lavoro puliamo bene sempre gli strumenti mettiamo questo foglio da parte e quindi senza il giugio iniziamo sul nostro lavoro e mercolo qua allora qui come vedete ho già preparato dei debili delle vaschettine dove ho versato dei colori quindi fondamentalmente terra di siena bruciata ocra gialla un colore che nello specifico è questo vedete si chiama ocra rosa quindi fondamentalmente i colori delle terre quindi un'ocra rosa poi sono andato a utilizzare anche come colore ho messo una base di un giallo pastello e poi un bianco di avorio naturalmente ho anche un vasettino con il bianco ma qui ho tantissimi colori quindi quello che ho fatto con l'ho versato i barattoli poi naturalmente potremmo sempre attingere dai tubettini quando avevo bisogno di un po di blu un po di rosso rubino che è quello che utilizzato per il fondo il nero il giallo giapponese come vedete è contemplata nell'assortimento è contemplata anche una bottiglietta di vernice finale con finitura matte perché chiaramente con come dire conformemente anche al colore la vernice in questo caso abbiamo una vernice matte quindi conferirà e manterrà l'aspetto matte come dire opaco della della pittura ma chiaramente potrete anche scegliere con una finitura brillante gloss o una finitura satinata il lefranche bourgeois si freggia di avere una famiglia di vernici finali di altissima qualità utilizzate dai più grandi e importanti artisti nella storia dell'arte e come vedete ha creato una classificazione vedete di materiali quindi le vernici aperta appartengono alla famiglia tre sono numerate quindi uno preparare due creare tre proteggere e quindi ecco che abbiamo i vernici finali che è molto importante preservare il lavoro ora quindi quanti hanno una finita una finitura matte adesso iniziamo poi pete nel disegno la scelta di aver fatto questo fondo deve avere un significato tant'è vero che nelle mie intenzioni è proprio quella di lavorare soltanto in certe porzioni e poi con l'ausilio di un medium di cui vi parlerò farò determinati effetti anche sul fondo partiamo a stendere il colore quindi quello che ci serve è fondamentalmente mi attrezzo con un po di tovagliolini di carta che mi serviranno per pulire il colore di volta in volta i pennelli più che altro e allora prendo un pennellino prendo un pennello non troppo grande in questo contesto perché le dimensioni del dipinto non sono enormi e allora cominciamo a fare delle stesure di colore fondamentalmente per blocchi allora quindi fondamentalmente scegliamo una base su questa fase vado a stendere il colore sufficiente per blocchi principali parto da una sorta di colore di base quindi scelgo di partire con questo ocra rosa naturalmente ecco adesso che i colori li ve li ho presentati gli sposto e mi lascio spazio sulla tavolozza in modo tale da poter anche eventualmente creare dei movimenti e qui sulla tavolozza quindi poter creare delle mescolanze cominciamo con l'usare il colore pure prendo il pennello e andiamo ad applicarlo mi avvicino un po con la telecamera in modo tale da definire questi primi blocchi di colore quindi col colore steso piano semplicemente è un primo appoggio di colore come vedete non sto diluendo in questa fase in nessuna maniera il colore quindi col pennello in questo in questo momento sto utilizzando un pennello a mandorla cosiddetto quindi o a lingua di gatto così chiamati quindi sto facendo queste prime stesure senza caricare troppo vado a mettere anche qui una base di colore e lo stesso colore comincio ad applicarlo anche in quest'altra quale acqua quindi comincio fondamentalmente con delle pennellate semplici a riempimento a definire in qualche modo quelle che saranno delle aree di luce o comunque più illuminate e in questo modo fondamentalmente creo dei primi blocchi di colore quindi adesso piano piano sempre prendendo ecco prendiamo quello che sto utilizzando così ve lo mostro anche per bene in questo momento sto utilizzando anche se un po lo sporcato con le mie manacce sempre sto utilizzando quest'ocra rosa così che lo possiate vedere bene e come proseguo mettendo il colore in queste aree qui è un lavoro che chiaramente va fatto con cura con calma non abbiamo tutto sommato tanta fretta oddio più un po di fretta forse sì considerando i tempi però almeno per farvi vedere il più possibile nel durante questa sezione e adesso vedete è una prima stesura quindi non mi sto preoccupando di definire troppo la qualità della pennellata mi interessa quanto più vedete anche vedete i tempi di essiccazione sono talmente rapidi che già a seconda chiaramente sono legata l'epapurazione dell'acqua quindi una stesura sottile tutto sommato viene si copre facilmente quindi questo tipo questo vedete come già subito nell'immediato io riesco a sovrapporre chiaramente adesso posso procedere ancora con questo colore vado a aggiungere questa porzione in questa porzione qui quindi mi sto definendo un primo appoggio di colore stendo col pennello naturalmente poi sarete libero di scegliere anche dei pennellini più piccoli se vi da maggiore sicurezza insomma io sto lavorando con un pennello a mandola perché comunque un pennello decidiamo sempre di poterlo utilizzare in tutte le direzioni vediamo se mi state facendo delle domande ma mi sembra di no quindi tutto sommato tanto benvenuti a tutti quelli che sono entrati nel frattempo che non avevo salutato all'inizio e quindi vedete sono delle stesure piatte semplici lasciamo che il colore piano piano si definisca quanto vedete il colore si appoggia si asciuga con questa ho scelto un'immagine che tutto sommato è anche facile da trovare non mi sto preoccupando troppo dei contorni nel senso che come vedete il disegno di base mi serviva soltanto un po come pretesto per avere delle aree ecco perché una serie di linee però scelto di lavorare con la grafite perché comunque come avete visto la superficie argente della matita crea questi riflessi che sono molto interessanti per cui sono anche da valutare a maggior ragione proprio per avvalorare quel discorso che permette l'utilizzo una preparazione di un fondo permette l'utilizzo anche con delle materie secche va bene nel caso della grafite non è propriamente materia secca trattandosi di materia grassa appunto per questo appare proprio con questa sua bellissima un aspetto argento però per della materia secca intendo la pierre nuova le matite sanguigna i carboncini uno strumento ovviamente un fondo preparato per qualunque tipo di di preparazione come vedete sto utilizzando il colore direttamente quadriente quasi sostanzialmente quasi puro e quindi vedete come nessun segno poi venga ad essere questo a creare problemi che la grafite si copre tranquillamente sono colori estremamente pigmentati bene abbiamo definito quest'area qua definiamo anche un colpo di luce qui per differenza per staccarci dalla spalla sciacquo un attimo il pennello prendo un pennello un po più piccino magari una punta tonda prendo questo come sentite il rumore dell'acqua allora un pannetto sempre a portata di mano anche per ecco che posso curare maggiormente con una punta tonda questo è un pennello a punta tonda numero 10 quindi comunque ha una bella dimensione vari tono vedete con sempre non ti praticamente non sto diluendo il colore lo sto utilizzando pure perché questa fase appunto è la lavorazione per blocchi però a questo punto lasciamo che questa zona si asciughi e cominciamo allora lavorare maggiormente sul viso perché poi stiamo appunto parlando del ritratto poi la costruzione di un ritratto vi potete sempre aiutare con delle eventualmente non abbiate ancora quella capacità di gestire il ritratto nelle forme più corrette che potranno entrare in campo strumenti come per esempio delle quadrettature cioè preparare che l'immagine vi fate una quadrettatura di riferimento che vi sarà sicuramente molto molto utile per aiutarvi proprio alla creazione del disegno comunque aiutatevi nel senso che non è non sarà mai un problema per nessuno insomma il fatto di potersi supportare anche di strumenti fra virgolette di mezzi per poter raggiungere appunto il risultato allora nel frattempo quindi vedete le stesure si stanno sovrapponendo bene ora che abbiamo fatto questa prima cosa posso utilizzare come dire una nota quindi sposto questo colore avendo preparato questa base con questo colore di che un'ocra rosa perché no diamogli una nota lievemente qui in tavolozza con terra di siena bruciata quindi lievemente più rossiccia vedete stendo il colore lo diluisco prendo il colore quindi gli sto per dire mi sto preparando una quantità di colore quindi a questo punto cominciamo a lavorare di tavolozza spero che lo vedete bene quindi sono andata aggiungere una punta di terra di siena bruciata eccola qua così che lo potete vedere bene e vi ricordate terra di siena bruciata così mi sono creato praticamente un tono lievemente più scuro tono che quindi vado a mettere praticamente accanto alle aree che ho creato quindi vedete vado proprio in appoggio con la punta del pennello lavoro in certi margini quindi cerco di controllare le pennellate mi converrà utilizzare in questo momento anche un pennello un po più piccolino decisamente un po più piccolo perché lavorando poi in prossimità di certi dettagli ecco che allora un pennello più piccolo in questo caso un pennello numero 4 a punta tonda è sicuramente più efficace perché stiamo lavorando in una zona dove fondamentalmente ecco come vedete anche dalla mescolanza il colore quando i colori poi andiamo a mescolare qui ho utilizzato un colore di ocra rosa che comunque un colore vedete il quadratino è un coprente e si vede utilizzati insieme a una terra rossa bruciata fondamentalmente un terra di siena bruciata abbiamo comunque una tonalità vedete interessante e stiamo mantenendo ci possiamo anche giocare con i toni quindi creare una specie di gradare di gradiente tonale giocando appunto con con questi colori mi raccomando di imparare sempre a leggere i colori quello che c'è dentro vedete qui ci sono capite subito quando un colore è coprente questo ocra rosa fondamentalmente creato il primo colore che c'è all'interno con quell'acronimo che sia appunto che identifica quello che si chiama color index mi dice che il primo colore è un bianco di titanio pigment white 6 p w 6 poi c'è un pigment yellow 42 che è un ocra gialla e poi c'è una punta di pigment brown 7 quindi me l'ha fatto diventare una tonalità mentre questo terra di siena bruciata fondamentalmente è un pr pigment red 101 quindi un monopigmento a proposito dei monopigmenti vi devo dire che in una cartella di 78 colori flash ne presenta ben 38 di colori monopigmenti come quel terra di siena bruciata che vi ho fatto vedere continuiamo quindi a lavorare un po sul dettaglio quindi con un pennello un po più piccolo definendo quindi quelle aree che sicuramente mi saranno utili per crearmi questi passaggi e come vedete non mi sto tutto sommato preoccupando di creare delle sfumature quanto piuttosto di creare come una sorta di lavoro a mosaico quindi in qualche modo ecco che la finalità di legarlo più forse ad un'opera pop nel senso quindi creiamo delle aree possiamo andare a scaldare i toni quindi tutto su unire per esempio questa nota di colore che esattamente un giallo pastello vedete quindi sposto un po i colori in alto li metto qui li vedete sì ecco una nota gialla la metto qui perché perché no possiamo anche utilizzare questo colore per dare un po di calore a quest'area qua particolare col colore più scuro quindi possiamo comunque gestire una tavolozza in maniera molto molto semplice e avvicino il più possibile senza fare troppi danni nel frattempo sono capaci di fare cose sentiti i rumori tragici che si stanno facendo i vinici in frattempo necessitano di particolari condizioni per la conservazione basta chiuderli bene basta chiuderli bene l'importante che prima dell'utilizzo vanno ben ben shakerati quindi prima dell'uso eccolo qua che continua a fare danni shakerare con vigore poi aprire bene è buona norma in generale ecco quando avete tanto colore all'interno del tappo di raccoglierlo magari con la spatola col pennello rimetterlo all'interno notare a tenere sempre chiuso sempre pulita poi con una pezzetta ripulite bene i bordi sia intorno al coperchio che intorno al barato in modo tale da assicurarvi di chiuderlo bene nel frattempo qui torna voi spero di essere stato chiaro allora sposto un po inclino un po la telecamera in modo tale che possa anche vedere dove sto andando a dipingere stiamo parlando comunque di tempi di essiccazione piuttosto rapidi quindi comunque i tempi sono quelli che sono nel senso che io sto lavorando e bevo per crearmi delle stesure però come vedete i colori poi ho scelto una scala di colori tutto sommato armoniosa nel senso che poi lavorando nei toni dei carnati sono andata a lavorare con delle ocre gialle con delle ocre rosa con dei colori che poi vado a crearmi in mescolanza ma nessuno vi poteva gli impediva per esempio utilizzare anche delle tonalità di che ne so di verde piuttosto che per dare delle nuanze che possono essere sempre interessanti così va andiamo a sempre con un pennellino piccolino andiamo a riempimento di quest'area qui teniamo conto che qui ci sono le labbra andiamo anche sul naso spero di leggere tutte le domande però insomma mi sembra che non ne abbiate fatte poi più di tanto allora quindi posso procedere tranquillamente come vedete sto lavorando per blocchi di colore è un atteggiamento tutto sommato tranquillo sereno di lavorazione non richiede particolari come dire eccellenze nel senso che è una volta che avete impostato il disegno dividere spezzare il colore di dimmi permette in qualche modo anche di vedere i colori per zone in maniera molto più semplice ripulisco adesso il colore potete crearvi tutte le vaschette di colore con tutte le mescolanze che preferite quindi potete già in partenza utilizzare per esempio posso utilizzare una nota di colore avorio già per esempio per illuminare una comunale a quindi creare giocando un po con i colori vedete lavorio non puro ma sempre mescolato con un po di quello che la rosa di una punta di avorio quindi ottengo una tonalità molto ma molto più pallida che sarà interessante per esempio da applicare in questa zona qui quindi andiamo a determinare i lumi di questa zona le parti colpite maggiormente dalla luce quindi ecco qui sulla punta del naso e così piano piano e sempre gradualmente stiamo ottenendo comunque una definizione in qualche modo quasi potremmo dire digitale quindi vedete anche il concetto di pop ci sta benissimo ora nel frattempo vedete i colori poi asciugandosi tendono a vedere i tuoi più leggeri quelli un po diluiti tendono chiaramente a perdere un po del tono quindi è chiaro che questa è una prima stesura però potenzialmente se non dovesse piacervi l'idea di mantenere così netti i passaggi coadiuvandovi con i colori vinilici permettono una diluizione diversa diversa una direzione anche abbondante quindi diversamente da quello che sono i colori acrilici che normalmente vogliono una diluizione minima con il colore vinilico possiamo veramente anche abbondare con la diluizione quindi fondamentalmente quando vado a creare questa prima stesura di colore quindi vado a ribagnarmi quest'aria qui e poi vado a bagnare spostiamo lavorio vado a riprendere un po il colore un po più scuretto che avevo creato qua anche leggermente diluito ecco che vuol dire che poi diventa una sovrapposizione più morbida meno netta e mi permette comunque di lavorare bene quando voglio il colore più carico non lo diluisco quindi lo uso praticamente puro lasciamo che qui si asciughi vado a prendere ancora questo colore bello intenso andiamo sotto l'occhio un po più scuretto e direi che pian piano 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 stiamo definendo i vari punti del ritratto qui andiamo a colare in questa zona qui in questa zona qui ora se c'è qualcosa che caratterizza in maniera più che mai evidente il suo sguardo è una cosa quindi dobbiamo dedicare particolare attenzione al lavoro che facciamo sullo sguardo quindi mi attrezzo di un pennello ancora più piccolo perché in questo caso posso lavorare posso devo lavorare proprio con un dettaglio quindi mi amo di un pennello davvero piccolo piccolo mi avvicino tanto lo vedete il disegno cominciamo a definire con l'avorio la parte sposto la camera andiamo a colorare in fuoco anche gli occhiali perché avvicinandoci al dipinto insomma adesso entriamo un po nel dettaglio ecco cominciamo a definire questa parte qui nell'occhio quindi proprio sempre vedete per stesure piatte questa parte qui mettiamo già anche un punto di luce anche qui con un pennello vedete piccolo piccolo adesso andiamo a caratterizzare il colore magnifico e poi fondamentalmente soffia loren ha negli occhi un colore potremmo dire similare potremmo dire da delle sfumature delle scherziature gialle quindi non è un caso che io abbia messo anche un po di ocra gialla che ho preparato l'intervolozza quindi comincio a raggiungere queste scherziature di ocra gialla qui nell'occhio nella pupilla scherziature che poi farò lavorare bene ecco qui e io direi che anche una puntina di terra rossa sarà interessante in terra di siena bruciata per dargli una nota un po più rossa vado a mettere una nota di rosso pure qui definisco la ghiandola primale pulisco il pennello vado a riprendere un po con un pannetto pulito un po di colore faccio un po così potete vedere anche la tavolozza il movimento in tavolozza che è importante vedere anche un po come andiamo a mescolare il colore quindi vado a mettere una punta di colore in questo punto qui piano piano con calma non abbiamo freddo ci abbiamo freddo non abbiamo freddo oddio vediamo sono stati 34 minuti tutto sommato stiamo procedendo bene l'importante in questo contesto e vedere i passaggi quindi fondamentalmente adesso anche curando un po tra virgolette qualche dettaglio stiamo vedendo come ecco vedete col pennellino piccolo definisco questo punto la ghiandola lacrimale definiamo anche sempre con questo crea rosa tutta la parte della palpebra che è qui piano e adesso necessità di utilizzare un colore un po più scuro quindi vado a prendere un cio il terra di siena bruciata però posso anche freggiarmi di utilizzare questo bel colore di seppia bruna ma in mancanza di una palette così ampia andrà sempre bene a lavorare sulle mescolanze quindi sicuramente potete prendere una puntina di nero ecco che magari mettiamolo perché comunque ci potrà essere utile ricordiamoci sempre è sempre importante mescolare bene il colore mettiamo un po di colore proprio una piccola quantità non so se la vedete ecco adesso sì una piccola di quantità questo è il nero e questo è il seppia bruna perché no visto che ci siamo mettiamo un po anche di una nota rossa la mettiamo qui una piccola quantità di rossa di osso faccio sempre in modo che non riusciate a vedere dove posiziono i colori cerco sempre una posizione che sicuramente non vedrete sono bravissimo in tutto questo abbiamo capito allora i colori li avete visti allora andiamo a posizione mi avvicino un po alla camera al dipinto in modo da farvi vedere questa fase qua vado a prendere quindi questo colore di terra bruna lo sto mescolando per bene e andiamo a definire in una posizione che mi permetta anche di dipingere quello che forse sono gli elementi caratteristici cioè proprio quello sguardo quel taglio e anche quel trucco che in questa immagine particolare di sofia loren degli anni 60 consideriamo soprattutto negli anni 60 tra gli anni 60 e gli anni 70 in una splendida attrice ecco qua e quindi vediamo proprio quel taglio con questo trucco tipico degli anni 60 definiamo anche un po qualche ciglia andiamo a muoverci anche qui nell'ambito sotto quindi caratterizziamo questa parte qui quindi vedete sono piccoli tocchi e con il colore diluito magari un po di terra bruna mescolato un po al terra di siena ma la rigeneriamo in qualche modo anche il disegno della palpebra vedete sempre con stesure minime quindi fondamentalmente è un lavoro graduale leggero mi manca un altro elemento importante questo elemento importante sono le sopracciglia sopracciglia che erano di un castano chiaro quindi perché no vado a utilizzare un po di terra d'ombra naturale eccolo qua che è proprio un colore il colore delle che sarà sia nei suoi capelli che nelle sue sopracciglia quindi vado a mettermi in tavolozza un po di terra di siena un po di terra d'ombra naturale sono colori che in qualche modo non mancano mai nella tavolozza di un artista quindi le terre fondamentalmente a volte basterebbe per dipingere come del resto offerto anche nel set vedete nel set fondamentalmente che cosa sono offerti il nero il bianco giallo rosso diciamo che è meglio giallo rosso blu un'ocra rossa e un'ocra gialla quindi già con questo fondamentalmente abbiamo una bella palette per cui crearci tutti i colori che desideriamo però andiamo a fare abbiamo visto che possiamo sfruttare tanti colori allora rimetto in posizione con questo color di te di ocra scusate di terra di siena natura terra d'ombra naturale vado a disegnarmi a dipingermi più correttamente tutto il sopracciglio quindi sempre in quel discorso di abbozzo di dare le prime forme perché fondamentalmente è anche una scelta quella di poter arrivare a un livello di definizione sempre più maggiore ma semplicemente lavorando in questa maniera nel senso con accostamenti di colore graduali come vedete la tecnica pittorica e semplice non richiede particolari sforzi e comunque garantisce anche dei risultati molto molto interessanti quando anche il colore è diluito qui andiamo a ridisegnare a ridipingere in qualche modo anche la porzione relativamente alla parte dell'altro occhio come vedete quando poi andiamo a caricare l'abbiamo già visto che quando andiamo a caricare il colore fondamentalmente si sovrappone vedete con molta più incisività quindi con molta più forza è chiaramente a tutto nostro vantaggio quindi perché i colori sono estremamente lavorabili con una coprenza straordinaria poi quando vogliamo cominciare anche a conferire delle come dire delle trasparenze adesso vedremo come fare è proprio a proposito di trasparenza e quindi adesso muovendoci un po con il colore andiamo a schiarire qui in prossimità della ghiandola anche qui con un tocco di chiaro eccolo qua e diciamo che a questo punto mi mancherebbe soltanto di dare una nota quindi di colore prendo un po di ocra gialla la metto qui accanto a questo rosso rubino quindi crea un rosso tutto sommato caldo ma con una nota chiara vedete quasi aranciata oca gialla maggiore comincio a definire questi punti questo altro punto del labbro che prende un po di luce spero che vediate bene approfitto per tracciare anche dei segni di colore qui quindi vedete sto utilizzando in questi dettagli perché comunque la dimensione del dipinto in funzione anche della diretta è piuttosto piccolina quindi è normale che mi si richieda di utilizzare dei pennelli piccoli flash permette di lavorare anche sulle grandi dimensioni vi posso dire che la soddisfazione che danno i colori flash è notevole proprio perché veramente hanno una stesura ampia una facilità di stesura meravigliosa quindi sono io molto spesso nella mia pratica pittorica l'utilizzo spesso e volentieri anche per realizzare delle opere in grande scala dei murali anche i dipinti e nella mia esperienza io ho lavorato per molti anni come dipingendo a freschi a freschi con la tecnica della fresco quindi stiamo parlando di una tecnica completamente diversa quando la fresco a volte si è un po rovinato per esempio quando realizzando anche degli strappi di affresco ecco che l'intervento con il colore flash è veramente notevole perché avendo una finitura completamente opaca praticamente non si vede quindi io infatti è praticamente molto spesso usato anche per fare i finti affreschi ma sull'affresco per piccoli ritocchi infatti affreschi parliamo in chiave contemporanea poi per le tecniche di restauro ogni restauratore saprà come meglio gestire queste cose sono ambienti che richiedono professionalità ed eccellenze che in italia abbiamo quindi abbiamo grandissima grandissima scuola di restauro quindi lasciamo fare a loro questo mestiere io non sono un restauratore sono un pittore e quindi come pittore io gli affreschi li faccio ex nuovo quindi però quando mi è capitato di dover ritoccare o intervenire su degli affreschi l'ho fatto tranquillamente utilizzando i colori flash avendo dei risultati splendidi perché un colore fa fare un ritocco su una superficie con una finitura completamente opaca come quella di un intonaco quindi una pittura da fresco evidente dipingere sull'intonaco fresco avere dare un tocco con utilizzando delle resine fondamentalmente di vario tipo ne esistono tantissime in questo ambito utilizzare delle resine sbagliate può portare ad avere dei risultati talmente brillanti che credo si possano vedere anche in corea del sud fatti magari a napoli nel frattempo sto dipingendo sulle lab e sto definendo in qualche modo sempre più i dettagli chiaramente il lavoro richiede una cura maggiore richiedeva tempi di partecipazione di lavorazione naturale però va bene l'importante che abbiate capito visto che comunque abbiamo questi rimandi di rosso e vi si è considerato che questo rosso ce l'abbiamo l'abbiamo creato mescolando il terra di siena con l'ocra niente il terra di siena bruciata con il rosso rubino che sto utilizzando qua allora qui già avrei il colore però potrei utilizzarlo già in questa fascia qua per ritornare a rimettercelo quindi in quest'area io vado a utilizzare praticamente lo stesso rosso per creare quindi questi movimenti bene allora nel frattempo che così il lavoro si porta un po avanti ecco qui faccio un colore magari una zona d'ombra tolisco il pennello vado a prendere un po di colore di terra di siena mescolato in tavolozza a quei colori che avevo creato prima mi credo quindi una tonalità intermedia e vado a stendere il colore in questa acqua per creare una sorta di filtro di passaggio un po come ho fatto qui lo stesso lavoro che ho fatto qui lo sto facendo anche in quest'area per definire un po le zone d'ombra quest'area qui posso anche utilizzare il colore in prima stesura trasparente nessuno me lo impedisce qui ci sarà poi la collana vado a riprendere quest'ocra rosa scurendola un pochino tocchi e tocchettini vado un po a schiarire con un po di avorio lo stesso colore di prima in tavolozza mi credo quindi una stesura di colore chiara in questo punto che sarà funzionale anche ai movimenti rispetto al collo ok e così pian piano pian piano avete capito come i processi siano semplicemente graduali andremo pian piano ad arricchire in qualche modo anche a caratterizzare maggiormente con una maggior cura il dettaglio per caratterizzare le somiglianze e tutto quello perché bisogna caratterizzare il personaggio ma intanto procediamo definendo quest'area qui maggiormente almeno una certa area quindi sempre lasciando un po il colore staccato ecco che vi vado a riprendere quella tonalità iniziale che era proprio quell'ocra rosa la vado a mettere qui e quindi creò vedete in sovrapposizione con una leggera diluizione crea praticamente una sovrapposizione di colore che mi crea la giusta stesura e copre anche i segni più forti e mi interessa farvi vedere farvi conoscere anche altri strumenti perché come vedete poi il risultato la mia intenzione è proprio quella di mantenere far uscire la figura semplicemente utilizzando questo come fondo quindi mantenere questo fondo rosso l'abito è rosso e voglio caratterizzare lo caratterizzò dopo giocando appunto il tono su tono proprio con i tovoli del rosso della terra e magari mettendo qualche punta più scura perché è un gioco più chiaro scurale ma sempre con lo stesso processo ma voglio farvi vedere per esempio come ottenere perché poi è un aumento dei contrasti la fase successiva sarà aumentare i contrasti quindi dopo la definizione andremo come avete già visto già fatto una prima fase di primo appoggio un secondo una seconda fase dove vado a intervenire gradualmente sulla base di colore ormai asciutta andando a scurire e schiarire sempre con questi mezzi toni che definiranno meglio il volume vedete non ho mai utilizzato il bianco puro o il nero puro ma i bianchi o comunque colori che contengono il bianco per spezzare il colore ma a questo punto vediamo su questo fondo che ormai bello asciutto come creare per esempio delle velature e che è un aspetto molto importante che dovete ricordarvi sempre la condizione obbligatoria per fare le velature le questo elegante processo è che il substrato sia completamente completamente asciutto altrimenti una velatura potrebbe portarsi via tutta una stesura in velatura quindi una stesura in trasparenza si porterebbe via tutta la materia pittorica come facciamo allora a fare delle belle velature normalmente i colori flash come vi ho detto permettono una forte diluizione e allora ve lo faccio sforzo un attimo sofia ma solo un attimo o almeno quello che sta facendo si sta diventando prendo un foglio che vi faccio vedere un discorso allora vi faccio vedere che cosa fa il colore flash utilizzato molto diluito in questo caso lo faccio sempre su questa carta effetto tela prendo questo bel colore di blu cenere con acqua pulita prendo il colore e questo è il colore puro vediamo cosa succede diluendolo moltissimo quindi pulisco prima il pennello vado nell'acqua pulita vedete comunque entro certi margini possiamo mantenere una certa diluizione però state vedendo che poi questo discorso della diluizione sarà tanto più accattivante quanto più utilizzeremo determinati tipi di soggetti come dirvi sulla carta per acqua e vello sicuramente vedremo un risultato decisamente diverso tra poco vado a prendere un pezzettino di carta per acqua e vello proprio per farvi vedere come si cosa significa questo effetto guardate praticamente diluendo molto il colore moltissimo con tanta acqua chiaramente si tende a non è non è questo il miglior modo per fare una velatura ecco questa per dirvela noi ritorniamo sul colore anche perché cosa succede che per effetto anche di eventuali movimenti che potremmo dare applicando per esempio dell'acqua come nella tecnica dell'acquarello vedete se io vado a cadere delle gocce di acqua queste si dipanano come nell'acquarello tendono a camminare e allora vediamo cosa possiamo utilizzare lo strumento perfetto davvero perfetto per fare le velature si chiama medium fluido vedete pur creare de glasi questo che ho in mano è quello brillante e trasparente quindi chiaramente sarà estremamente trasparente offrirà una finitura brillante quindi proprio che può essere utilizzata come leggete per acrilico e flash vedete quindi si può utilizzare entrambi i casi contrariamente a questo abbiamo per esempio all'opposto abbiamo sempre il medium fluido pur creare de glasi sempre per effetti matti vedete quindi per creare degli effetti di superfili di finitura matte come vedete la finitura sarà completamente matta ed è traslucido quindi non è completamente trasparente come questo che è completamente trasparente voglio farvi vedere la velatura con medium trasparente vediamo come se cosa come si fa beh normalmente possiamo prepararci anche il colore in una ciotola in una ciotolina quindi vediamo naturalmente la che cosa capiamo innanzitutto innanzitutto che cos'è è un medium lo alzo la camera è un medium sviluppato dalle frank proprio per aumentare la trasparenza per creare effetti di colore oltre che di velatura con queste finiture che potranno essere lucide opache è miscelabile in tutte le proporzioni con i colori flash e con i colori acrilici come avete detto come si utilizza ecco prendiamo una ciotola versiamo un po di medium ovviamente la trasparenza del colore sarà in ragione della quantità di medium rispetto al colore quindi più sarà il meglio questa ciotolina ecco metto una bella quantità di medium vedete ha detto qui e mi preparo una piccola quantità di colore quindi utilizziamo lo stesso colore prendo lo prendo col pennello lo vado a mescolare al medio senza aggiungere null'altro che il colore al medio quindi non è acqua né niente di niente e guardate che cosa significa avere un colore che rispetto a come aveva inizialmente volete visto come il colore allo stato iniziale era un colore che aveva una coprenza notevole ricordate abbiamo visto prima anzi posso prendere nel frattempo il fondo di prima che si sta ancora asciugando non si è ancora del tutto asciugato vedete ma in certi punti sta già asciugando se vedete la finitura completamente molto coprente vedete con lo stesso colore come è diventato attraverso la velatura quelle goccioline di acqua che avevo messo la vedete si sono un po andate a perdere in quest'altro caso invece se io vado a prendere di nuovo il pennello e vado a versare delle gocce di acqua guardate attentamente quello che sta succedendo da poggiare dell'acqua qui posso anche crearmi con l'acqua sempre dei disegni in qualche modo mi avvicino con la telecamera così potete vederlo meglio sto creando dei movimenti con l'acqua vedete semplicemente proprio accarezzando il più possibile non sto calcando con l'acqua ma soprattutto quello che mi interessa farvi osservare è che vedete l'acqua poggiata rimane ferma non come qui dove io mettevo l'acqua vedete l'acqua tende a spanciare a portarsi via il colore tende a camminare invece qui no si sta giustamente asciugando nel frattempo mi allontano un secondo perché vado a prendere un foglio di carta per a quello per farvi vedere ho dimenticato di prenderlo ecco qua ce li ho qui a portata di mano prendo un foglio di carta per acqua e velli così nel frattempo questa è una carta 300 grammi un grigaglietto grana fine intanto guardate ancora vedete l'acqua e qui vedete contro luce non si muove mentre qui si è dipanata nel frattempo che un po si asciuga naturalmente vi faccio vedere che cosa significa il colore flash su una carta per acqua e velli perché tra l'altro è un colore che è anche utilizzato proprio su carta per acqua e vello ha una resa straordinaria davvero fenomenale con delle caratteristiche tra l'altro bellissime di colore quindi questo è il colore puro guardate e vediamo cosa succede aggiungendo tanta acqua per farlo in maniera efficace prendo uno spruzzino semplicemente col pennello anche con un pennello morbido da acqua e vello perché no guardate guardate proprio la diluizione su carta e quindi chiaramente la risposta della carta con una diluizione così forte guardate anche la carica di pigmento perché poi chiaramente tutto funzionale anche alla carica è legato alla carica del pigmento la resa del colore quindi quando un colore è di qualità come riconosciamo un colore di qualità normalmente anche in una famiglia di colori extra fini come li riconosciamo per la maggiore carica di pigmento per ogni singolo colore è chiaramente nella maggiore quantità di quello spettro cromatico più ampio quindi una cartella colori molto molto ampia però osservate con attenzione come sia bella anche con l'effetto di granulazione che si viene a creare con questo bellissimo luce nella resa su carta quindi la querellatura con un colore flash su carta è stupenda quando cominciamo lavorare su una tela o su un supporto diciamo che è un ragionamento diverso per accelerare un po i processi perché sennò qui facciamo notte mi aiuto con il fondo quindi concedetemi qualche istante per il rumore del fondo che naturalmente si è staccato ai fini di quello che voglio mostrarvi quello che mi interessa è farvi capire come quello che si va ad asciugare fondamentalmente questa porzione qua dove non ho applicato altro che il colore col medium quindi i tempi di evaporazione sono più di asciugatura sono piuttosto rapidi qui vedete se già asciugato ma è chiaro che ci sono delle zone ancora umide però che cosa succede cosa volevo mostrarvi questo guarda se io vado a prendere un tovagliolo e vado applicare un tovagliolo pulito per tamponare queste parti di acqua dove ho fatto cadere le gocce tamponando in questa maniera quindi poggiando con la mano fate questo movimento sollevate fondamentalmente ha portato via tutto andiamo a fare la stessa operazione qui dove ho lasciato quei segni fatti con l'acqua e otteniamo degli elementi di una bellezza incredibile fondamentalmente giocando con questo medium di velatura quindi vedete con il medium di velatura che qui ho fatto in una maniera piuttosto rapida affrettata per ottenere questi effetti però fondamentalmente non ho solo l'effetto di trasparenza quindi sovrapposizione continue di colore in trasparenza l'uno sull'altro con pochissimi tempi di attesa per l'asciugatura ma potrò crearmi tutta una serie di movimenti dinamici che potrò continuare a fare in sovrapposizione creando quell'effetto che a mio gusto e piacimento si può chiamare per esempio di mapping vi faccio vedere un esempio fatto sempre con un medium di velatura che potremmo così chiamare dove ovviamente ci sono una serie di sovrapposizioni fatte vedete con il colore sovrapposto di volte e volte naturalmente attendendo quindi è chiaro che per fare questa parte utilizzato prima una terra rossa un arancio fondamentalmente con il medium sempre con il medium sono andato a tirarmi fuori quindi le arie bianche di questo pezzo di tela vedete poi su questa parte completamente asciugato ho fatto un preparato come questo di un blu con mescolato al medium sono andato a stenderlo e sono andato di nuovo a muovere gocce e goccioline quindi va da sé che ogni volta che sono andato a togliere ho creato quindi delle sovrapposizioni e delle stratificazioni di colore in velatura quindi ricavandomi quello che voglio questo adesso per esempio è già praticamente quasi completamente asciutto si dovrebbe asciugare un po di più per fare un ulteriore velatura però tanto per vediamo vediamo quanto si è asciugato e per quanto me lo permette però per farvi capire concettualmente qual è il punto ecco che se prendo un'altra vaschettina e vado a mettere di nuovo il medium di velatura qui e aggiungo giusto un pochino pochino di in questo caso giallo prendo questo bellissimo giallo giapponese chiaro una punta di colore questo è il giallo giapponese chiaro quindi vediamo com'è il colore questo è il colore puro prendo una punta una piccola quantità di giallo la vado a mescolare qui quindi ottengo una sostanza trasparente gialla e vado in velatura con questa tonalità vedete ho messo una piccolissima quantità di giallo quindi vado in velatura anche sulla parte precedente vedete il giallo è diventato completamente trasparente chiaro la porzione la proporzione il rapporto è legato appunto se lo volete più carico o meno carico quindi dipende dalla quantità di colore se lo volete più trasparente deve essere molto di più la quantità di medium che vedete che effetti interessanti e come per farvi capire come ottenere quell'effetto che poi farò anche sul dipinto fondamentalmente in sostanza è questo con il pennellino vado a ribagnare con una goccia d'acqua qui magari una goccia che si frappone qui e qui così si mantiene fra l'uno e l'altro e crearmi altri segni che a questo punto vado a mettere in sovrapposizione ora immaginate di ripetere questa operazione 20 volte con 20 colori diversi immaginate quindi che tipo di superfici potremmo attenere questo era per farvi capire il concetto sempre con lo stesso processo se io adesso volessi fare un intervento di questo tipo quindi sul dipinto fondamenti di base quello che mi interessava era creare un movimento giocando sui toni che quindi voglio arricchire in qualche modo con il rosso siccome la vaschetta mi sta accendendo di tolgo via questo giallo lo eliminiamo la mia vaschetta quella di sotto si è incollata chissà perché queste tragedie che incombono sempre nell'ultimo secondo vado a riversare una bella quantità di medium vedete vado a prendere il rosso rubino che posso scegliere dal flacone da 80 ml o dalla piccolino nel set prendo una bella quantità di rosso solo rosso perché quindi voglio dare su questa nota voglio dare solo una nota di rosso vado a prendere anche il pennello che utilizzerò poi per fare le stesure questo prendo un pennello numero 16 sintetico vado a sciogliere bene il colore col medio e potrò fare tutta una serie di interventi sapendo già che se io ho un fondo che è terra rossa fondamentalmente non potrò mai avere bianco se voglio il bianco devo crearmelo sotto quindi eventualmente in un passaggio successivo potrei applicare qui del bianco su quale fare una traccia qualcosa degli elementi geometrici dove creare le mie metri però il concetto è questo prendo il colore mescolato al medio e vado in velatura con delle stesure in questa area quadre relativamente al fondo qui ha questo coperchietto posso anche fare una stesura bella ampia rapida la stendo bene quindi come prima applicazione di come prima velatura io sono avendo solo sul fondo mi vado a coprire tutta questa parte state vedendo penso di sì anche se c'è la mia mano che impedisce il movimento magari sposto la telecamera in modo che possiate vedere proprio il movimento della pennellata non mi preoccupo del fatto che sto andando sui capelli o in aria del disegno non mi interessa perché tanto dopo ci ritornerò sopra con la materia sarà interessante quindi valutare proprio il fatto di aver utilizzato un medium lucido in questo caso quindi con un effetto una finitura lucida si consapora completamente al disegno al dipinto nella posizione centrale che è quella della figura a questo punto il colore stesso posso anche crearmi per esempio delle perché no delle scolature quindi in che modo beh posso innanzitutto ho fatto vedere una goccia d'acqua da qualche parte no allora per esempio potrei creare un effetto con lo spruzzino uno spruzzatore a distanza con una distanza che può essere in questo momento tipo di 40 centimetri posso creare dei movimenti una spruzzata da lontano qui e qui quindi faccio e penso che le vediate un po da vicino le goccioline che sono andata a mettere vedete ok e ulteriormente posso intervenire facendo delle scolature quindi per farvelo vedere bene mi metto il dipinto levemente inclinato faccio scivolare fondamentalmente dell'acqua qui qui carico penso che si vedano tutti questi riboli di acqua che sto facendo scendere questo rosso che c'è sopra io potrò fare successivamente una velatura ulteriore a quello che sopra vedete il ribolo d'acqua come sta caratterizzando e penso che lo vediate anche meglio se sollevo completamente se appoggio il lavoro e che poi anche il ribolo in qualche modo non lo controlliamo vedete quindi siamo noi a decidere il cammino dell'acqua che cosa vi avrà rivelato fondamentalmente la velatura si asciugherà tra poco tempo e tutto quegli effetti di macchie macchioline che ho fatto qua risulteranno comunque presenti quindi quanto più volete valorizzare questo effetto tanto più potrete potete stratificare il colore potremmo per esempio decidere successivamente di mettere una stesura più ampia in questa zona qui magari con un rosso più scuro più intenso magari proprio a contraposizione alla parte più illuminata per farvi un esempio in ogni caso tutte le velature su tutte le velature potrete sempre fatte con questo medio quindi penso che sia facile ricordare i passaggi che ho fatto mescolate il colore con il medio nella vaschettina e poi una volta che è applicato col pennello o anche col giullo come vi sembra più comodo poi successivamente fate i vostri movimenti con l'acqua per ritirare fuori gli elementi perché comunque sul fresco mi lavora bene e per capire chiaramente questo si dovrebbe asciugare allora visto che è passata di poco un'ora ma tutto sommato ci possiamo permettere il tempo io sono anche a vostra disposizione per eventuali domande che posso leggere nel frattempo scaldo e asciugo un po per far vedere l'effetto che abbiamo ottenuto facciamo finta che si sia già ottenuto il risultato vediamo se adesso vado a rimuovere la rimozione praticamente solo delle parti dove ho steso il medio vedete sto andando praticamente a la rimozione del colore il risultato sarà tanto più evidente vedete sarà tanto più evidente quanto più sarà inscurito imbrunito il colore però era giusto per farvi capire il concetto dove comunque si può lavorare anche con leggerissime variazioni tonali quindi su questa terra ottenuta appunto da terra di siena al rosso rubino sono andate a intervenire ulteriormente con il rosso rubino a quel rosso rubino potrò in sovrapposizione lavorare con altri colori per leggermente imbrunirlo quindi utilizzando che ne sono una punta di blu e quindi farlo diventare leggermente più scuro una punta di nero quindi ottenere tonalità diverse e così in qualche modo vi ho raccontato un po tutto sul su come realizzare un ritratto con queste stesure piatte anche con delle pennellate tutto sommato facili pennellate che potremmo poi continuare a proseguire tranquillamente quindi a questo punto io direi di ruotare la camera ciao a tutti come state spero che sia stato tutto chiaro nel frattempo comunque devo attenermi e mantenermi strettamente ai tempi che sono stati che sono stati richiesti però penso che sia stato per voi tutto abbastanza chiaro tutto quello che abbiamo visto allora spero che in questa oretta di essere riuscito a farvelo capire insomma in maniera molto semplice desidero chiaramente ringraziare tutti gli amici di Archimedia Belle Arti per avermi un spazio di ospitato vi ricordo che questa diretta poi sarà salvata nella sezione video e quindi potete rivederla tranquillamente vi invito a fare i vostri commenti se vi è piaciuta mettete un bel like un cuoricino un commento è un modo anche per dimostrare il vostro gradimento e anche gratificare tutto l'impegno profuso mi raccomando a leggere con attenzione il testo perché c'è anche una parte di accompagnamento al video perché riservate per voi una promozione speciale quindi coraggio andate a provare anche voi a realizzare il vostro il vostro ritardo così con queste stessure piatte con i colori flash con il medium di velatura e fondamentalmente ricordatevi se fate qualche opera potete sempre taggare ricordatevi a Archimedia Belle Arti ovviamente anche Lefranc Bourgeois Officiel poi se volete anche me io sono Carlo Monopoly Artist una giusto per concludere quindi non vedo che ci non vedo domande non ne avete aggiunto penso che fondamentalmente sarà stato tutto tutto chiaro tutto chiaro per voi quindi io con questa potrei dire di vi posso tranquillamente salutare quindi i miei cari amici di tutte le zone della terra dalla mia naricetta spaziale vi saluto in pace sempre in pace e vi auguro una bellissima serata saluti ciao a tutti ragazzi e pace ciao